teo che ti sei giocando il mobio di fortnite e oggi siamo in compagnia di teo terranova saluta e sto cazzo e jobsalyn e salutate e io sono troppo forte ma te lo stai facendo il video non so se lo sto facendo e siamo nito uno a caso si gli hanno maris comunque o diterlo sono diventato forte non è vero cioè su questa modalità sono troppo forte ogni partita mi faccio tipo 3 kg sempre e siamo nabbi ti sto cercando cioè ora ti immagini ci prendo in giro poi lì uccidiamo malissimo sia tipo 7 kg uno spero che il nostro campagna sia forte a condotti che ci porta fortuna ma tanta tanta cioè ormai a condotti no 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 condotti che mi ci porta non è vero che ci teo mettilo pure tu sei così lui si convince a venire qua a condotti teo metti il punto a non serve un cazzo il punto eh sì ma così lui si convince così lui si convince siamo in tre sai che sono la way sai che sono la way e sei che sono la way e sei che sono la way c'è ormai ora ma sì c'è peccatissimo che la stanno domani la tolgono perché c'è l'aggiornamento a domani voglio la il live domani live aggiornamento aggiungeranno il rampino no ma quante minchia di persone ci sono 107 mila c'è sta presto la pompa da me no 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 stavo uccidendo una ma vaffanculo tutti a condotti forse che fanno tutti con lì con l'ancera sono con l'ancera giudata e vabbè dai da me da me ma dove sei tu hai morto giova dai una mano al nostro amico oh il nostro amico è troppo morto oh no il nostro amico è forno levati grazie a gioco yama tieni un altro da sopra sei cincone aia ma non mi faceva camminare sta così inutile vai non mi faceva oh non mi faceva camminare te lo giuro c'è un pilastro da 10 che 10 metri e io ho preso il pilastro ciò costo bene bravissimo si è stato bravissimo c'è che poi da ma lì si sono sfigato non la mira non riesco mai un che tre nelle porte voi ecco sono sfigato ah siamo nabi yeah denis è quello che squirta vai infinican infinican raga facciamo un altro gioco no 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 teo abbandoni teo abbandoni tenito è quello che squirta ma scusa teo no 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 abbandono ahlArch che viene espulso teo viene espulso tra uno due zero ma guarda che sto caricando eh infatti eccomi Mettiti la schien da lab vabbè forse ci porta ma forse ci porta su orzuna mettiamoci io mi tolgo tutto tutto No, il piccone non posso, mi metto il vero piano, quello da nabbi, e basta. No, mettiti una skin, e ce l'hai. Non ce l'ho. Mettiti a vedere le cose, così sei super nabbo. Mi metto le cose. Noi abbiamo le skin, ciao baby. Vabbè, tanto te ho uccidi tu, visto che sei nabbo. Nabbo? Tu sei nabbo, quindi anche se ti metti lo a the trip che l'hai sbloccato l'altro giorno, cioè, ti prendono lo stesso per nabbo, perché ti vedono che spari, è un colpo a caso. Lo sapevo che hai la skin, lo sapevo. E vabbè, sì, il teo è abitato perché il teo non ha la skin. Vabbè. Cioè? Sai cosa dovrebbe fare ninja? Non so, non è... Paga. Togliersi tutto, a parte il piccone. mettersi lo skin da nabbo, così... C'è, vabbè, sì. E sembra nabbo mai forte per gli altri. Ma tipo... Cioè, per gli altri sembra nabbo, ma lui è forte. Vabbè, sì, ma se ne incontrano di centomila. Oh, qua c'è un vero nabbo. Oh, da me c'è un vero nabbo, ve lo giuro. Da me c'è un vero nabbo che non sa vabbè a camminare. Sta venendo! E che l'agga mi disse. Eh, no, andiamo a Condotti, che ci porta molta fortuna. Ma molta, molta. No, io non vado più a Condotti. No, dai, vieni a Condotti. Vado a Parco. No! La maggioranza vince. Mi dispiace. Ebbene, io vado a Parco. Dovete? La maggioranza vince. Eh, non me la c'è. Ci lasciamo dividere così, dai. Dai, noi due, noi due giochi andiamo a Condotti. Ma dai, ma abbiamo lì. Stai parlando, Ipu. Lo so, mettiamo il chat nel gioco. Metti il chat nel gioco. Ciao, amico! Hello, motherfucker. Hello. 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 Madafacchia. No. No, non mi dire che la la troverete. Invece sì. Ah, ah, metti il chat nel infatti, va. Dai, ne so come vi faccio. Vai! Ma perché? Pompacalibro. In questo caso, provo sempre un pompacalibro. In questo cesto? Ah, mi... Cioè, no, 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 no. Il fame sei mio, tu c'hai il pompacalibro. Aiuto! Mi date una mano! Mi date una mano! Grazie. Perché? Ti devo dare... No, ora ti devi riferire dal ca... Giovanni, ma c'è il pompacalibro. Giovanni, ma c'è il pompacalibro. Perché io ho il pompacalibro. Aiuto, dai, non c'è armi! Io ci rubo tutto, giocotta. Ma c'è qualcuno? C'è qualcuno? No. Come? Non c'è niente? Non c'è niente. Non c'è niente. Non è vero niente. C'è qualcuno dove c'è? Ma come mi è andato da solo? È scemo quello. Ah, sì, la voglio. No, guarda, non lo so più. Va bene. Se trovate casse di munizioni, le fate aprire me. Ma no, 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 l'avevo visto io! Dammi i colpi. Ok. Dammi tutti, tutti, tutti. I colpi che ho trovato erano quattro, quindi non mi rompere le palli. Non è vero, non erano quattro. Sì, sì, ti credo. Lo dovrai sapere io? Sì, sì, sì. Tu sei qui, po' porca... I giocolti non erano quattro. Guardate il nascondiglio della vita che ho trovato. Quando voi... Quando... Quando stava... Ah, no, non era... Non ero qua. Vieni, scoperto, scurta. Vai, andiamo, amici! Tu sei, tu sei, tu sei, mio! Qua è il nascondiglio segreto mio. Stai venendo, un attimino. Perché tu ancora non hai visto il mio. Questo è il mio nascondiglio. No, non mi visto, questo è un'illusione. Ma puoi stare zitti sti uccelli del cazzo? I miei o i tuoi? Eh no, io non ce li ho. Io sì. Io se non sono uno di uccello. Io avevo due e l'altro è scappato. Mi dispiace, è colpa tua, Dark. Cioè, come ti chiami, Teo? Tutta colpa tua! Tua! Mi hai fatto scappare. Tu le hai aperto la gabbia. Siamo. Sì, 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 sì. Che problemi hai? Per 175 di meni è scar leggendario. Scar a 175 di meni. Ma che va bene? Devi sapere che lo piscuita. Ma che becce! 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 Sono genere. Cane di merda! Che cazzo fai? Non devi scavare il divano, scema! Scava il divano per fare un buco, che l'ha già fatto sto buco del cazzo. Io c'ho tra il trappole. Che cazzo è nudo? No, che cazzo fai? Non devi grattare il divano. Se non fa fare il soledico. Che cazzo mordi? Ma questo è scemo. È scema. E mi ha rotto il cazzo, Maya. Maya. Si chiama così, che cazzo vuoi? Maya non mi leca. Si chiama Maya. Quanti anni ha? Maya. Il tuo. La tua. C'ha sette mesi. Si! Minchia! Il mio cane è un anno e tre mesi. E negli anni dei cani? Sette. La mia aveva nove mesi e aveva sette anni. Sei dicendo cazzata, è vero? Sei sicuro? Sì. No, mi ha tenuto io. Le voglio io. E vieni. Vengo io. Io mi prendo lo scaracca perché ho tre materi.